Musica Siamo adesso in piazza Libertà e siamo in procinto di partire per Rescaldina. Rescaldina come meta dove ci sarà all'interno di questa iniziativa sui passi dei partigiani. È un itinerario anche nuovo e storico dove vogliamo andare a trovare a Rescaldina questa lapide con i nomi di tre partigiani che sono stati uccisi. Carlo Rossini, Aquilino Bresolin e Ferdinando Chiestani, tutti ventenni che erano in una missione durante un'azione partigiana e sono stati catturati e fucilati sul posto. Adesso con la FIAB e l'AMPI e con chi ha voluto aderire a questa bellissima giornata inizieremo questo percorso con le nostre biciclette. Bene, questa è la sesta edizione di Pedala Resisti Pedala organizzata da FIAB a livello nazionale con Ampi e questa è la prima volta che viene organizzata con Ampi Saron, Ampi Rescaldina e l'amministrazione comunale di Rescaldina. Abbiamo parlato con il sindaco, è l'amministrazione che è molto contenta dell'iniziativa, quindi sarà un percorso nuovo. È la prima volta che andiamo verso Rescaldina, un percorso alternativo, andiamo verso la Girola, poi il parco degli Areoni e proseguiamo nel bosco e arriviamo lì. Con la conclusione, con l'amministrazione, l'AMPI e poi l'aperitivo come parte finale. Abbiamo l'appuntamento alle tre, quindi possiamo già... Dobbiamo andare. Esatto. Grazie. Partici via, via. Partici 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 via. Alla fuoco. Alla fuoco. I ultimi. Partici via. Partici via. Partici via. Partici via. Partici via. Partici via.